Buoni amici, oggi, in Best Top, vi portiamo una lista delle migliori soundbar sul mercato. Migliora il tuo home cinema con una barra con bassi potenti, alti precisi e un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi mostreremo i migliori venditori, i più economici e con la migliore tecnologia. Nella descrizione e nel primo commento, hai i link per l'acquisto dove puoi controllare il prezzo, le caratteristiche e le offerte disponibili. Sei pronto? Ecco qui! Nella top 1, le soundbar Bumeiker. Partiamo forte con l'opzione più economica della lista, di solito intorno agli 80 euro. Goditi un suono immersivo e coinvolgente per i tuoi film, giochi e serie preferite. La soundbar audio stereo Bumeiker presenta un suono surround 3D ad alta fedeltà con subwoofer integrato e tecnologia DSP. Il potente sistema audio stereo 2.0 presenta 4 altoparlanti full range e una pressione sonora fino a 120 dB. Dalle enormi esplosioni ai deboli sussurri, sperimenta ogni dettaglio con una chiarezza sorprendente. Il suo design elegante e sobrio, con un'interfaccia sul lato, permette alla soundbar di adattarsi più vicino alla parete. La soundbar Bumeiker supporta la connessione USB, AUX e ottica. Inoltre, dispone anche di Bluetooth versione 5.0 con una distanza operativa massima di 10 metri, per connettersi ad altri dispositivi e realizzare il tuo sogno di home cinema. In breve, una barra molto completa, che ha la valutazione positiva di più di 5.000 utenti, e quindi, possiamo solo raccomandare il suo acquisto nel link della descrizione. Nella top 2, Panasonic, HTB-200. Continuiamo con un modello economico del marchio Panasonic, molto rispettabile e di qualità. Questo modello, che si può trovare a meno di 100 euro, produce un suono potente e di alta qualità, che è difficile da immaginare considerando il suo corpo compatto. Combinando due altoparlanti full range, avvolgendo l'utente in un'acustica nitida, effetti stereo e potenza ottimale, questo suono supremo porta ancora più realismo a tutti i tuoi contenuti preferiti. La sua elevata potenza di uscita di 80 Watt e la modalità surround virtuale riempiono l'intero spazio di ascolto. Le modalità di suono permettono di selezionare quella che meglio si adatta all'immagine. Il suo design curvo, semplice ed elegante si fonde con l'insieme. Goditi la musica sul tuo sistema home cinema, dal tuo smartphone o tablet, con un suono di alta qualità. Inoltre, puoi facilmente riprodurre la tua musica senza fili dai dispositivi compatibili, grazie alla tecnologia Bluetooth. Con una valutazione di 4,2 su 5 stelle e il prestigio del suo marchio, questa Sundbar è uno dei migliori rapporti qualità-prezzo. Ricorda che hai tutti i prezzi, le offerte e le opinioni nei link della descrizione e nel primo commento del video. Nella top 3, la serie Sony 150. Entriamo nella fascia media con una delle migliori marche sul mercato. Sony ci offre una qualità estrema nei suoi prodotti. Questo modello è molto compatto e integra un altoparlante Bass Reflex per un audio migliore. Questo tipo di altoparlante offre bassi vigorosi senza sacrificare i dettagli e la chiarezza, perfetto per godersi i programmi TV e la musica. Godetevi il suono che vi circonda. La tecnologia S-Force Front Surroundi imita i campi sonori del cinema per offrire un audio dettagliato e pieno di stanze ad alta fedeltà. Miscelazione senza soluzione di continuità e facile connettività con la tua Smart TV. Connettersi alla TV non è mai stato così facile. Con il cavo HDMI ARC, si ottiene una facile connessione all'audio della TV. Inoltre, è possibile controllare entrambi con un unico telecomando. La connettività è importante. Ecco perché puoi trasmettere tutta la tua musica senza fili con la tecnologia Bluetooth. Grazie al suo design discreto e al profilo sottile, l'SF 150 è perfetto per qualsiasi casa. Porta a casa questo modello e scopri un nuovo modo di godersi la TV e l'home cinema. Il suo design, la qualità del suono, la connettività e il prezzo lo rendono la migliore scelta nella sua gamma. Nella top 4, la Sundbar LG, è 6 lunga 3. Se ti piacciono la potenza e i bassi, questo modello LG, per meno di 150 euro, può essere un ottimo acquisto. Questa Sundbar wireless ad alte prestazioni è dotata di 300 Watt di potenza, subwoofer wireless, multi Bluetooth 4.0 e USB. Questa Sundbar è l'aggiunta perfetta a qualsiasi casa. È stato specificamente progettato per abbinarsi perfettamente alla tua TV per una grande esperienza audiovisiva. Trasmetti la musica in streaming dalla tua libreria o dai tuoi servizi di musica in streaming mobile alla Sundbar e connetti più dispositivi allo stesso tempo. Il sistema Auto Sound Engine di LG ottimizza il suono a qualsiasi volume, preservando le frequenze in ogni momento. Il suo subwoofer senza fili con bassi potenti e scuri, rende facile posizionarlo dove meglio si adatta alla casa. Usa il telecomando del televisore per controllare comodamente la Sundbar con TV Sound Sync. Con una valutazione di 4,4 stelle su 5, è l'opzione meglio valutata, e con l'approvazione di più di 3.000 utenti che l'hanno già provata, quindi ne consigliamo l'acquisto. E infine, nella top 5, Philips B8505. Se sei un fanatico della qualità del suono, della profondità e della fedeltà, questa opzione high-end di Philips è un best seller. Con 240 Watt di potenza di picco, questa barra con subwoofer ti offre un suono epico. I due canali rendono le colonne sonore più ricche, gli effetti più forti e i dialoghi più chiari. Il subwoofer wireless aggiunge impatto ad ogni esplosione e ad ogni battito. Ha un design elegante, sottile e unico, a basso profilo inclinato. Il design compatto del potente subwoofer lo rende facile da nascondere. La sua compatibilità Dolby Atmos riproduce profondità e altezza, creando un suono surround tridimensionale che scorre sopra e intorno a te. Inoltre, può connettersi con gli assistenti vocali. Chiedi ai dispositivi con Alexa, o all'altoparlante compatibile con l'assistente di Google, di riprodurre la musica attraverso la soundbar. Da Best Top, vi consigliamo questa attrezzatura di fascia alta, con la quale potrete godere di un'esperienza eccezionale dal salotto di casa vostra. Hai domande su qualche modello? Scrivete nei commenti e vi risponderemo il prima possibile. Grazie per essere rimasto fino alla fine. Se ti è piaciuto il video, sostienici con un like, e ricordati di iscriverti per vedere altri video dei migliori top sul mercato. Alla prossima!